Il check è stato fatto, siete a posto? Dai riprendiamo il viaggio in questa sezione pomeridiana dell'Hippie Music Day ringraziamo ancora una volta la Dynamo Funky Bike Band che è stata sicuramente una delle sorprese più avvincenti, emozionanti e divertenti di questa due giorni li abbiamo fatti esibire nel momento più fresco così potevano stare tranquilli e anche per voi chi li ha seguiti insomma avrà ballato con temperature simpatiche ma adesso ci concentriamo sulla band che è salita su questo palco che in realtà è un tributo ad un gruppo che possiamo dire essere tra i più popolari per quanto riguarda la musica contemporanea e hanno venduto 150 milioni di dischi, non loro ma gli Eagles che nella formazione base originaria era composta da Glenn Frey, Don Alley, da Bernie Ledon e Randy Mesner i quattro Eagles originari erano proprio questi una lunga pausa dall'80-94 poi lo scioglimento nel 2016 alla morte di Glenn Frey e poi una reunion subito l'anno dopo nel 2017 beh il disco più venduto e sicuramente il disco più di successo in studio degli Eagles è stato Hotel California ed è proprio questo il nome che hanno scelto per dedicare al gruppo californiano il loro tributo e quindi le sonorità che sentiremo e ognuno di loro interpreterà un elemento degli Eagles però nella versione quella aggiornata quella che per sostituire Bernie Ledon ci vollero due chitarristi ovvero Joe Walsh e Don Felder in questo caso Alessio Olla, Alessio Pirina al basso Iurio Ru alla batteria, Pierpaolo Abis il Glenn Frey ce l'abbiamo qui ed è Tony Pirina ci sarà poi un'incursione anche di un altro Alessio Alessio Sanna alle tastiere vi lascio con la musica degli Hotel California Alessio Sanna alle tastiere 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 collegandosi su youtube la regia mobile di Maurizio e Paola è lì dietro che si occupa ovviamente di fare primi piani interessanti insomma una regia particolarmente attenta che ringraziamo anche per questo contributo grazie ragazzi loro sono dentro quel camper praticamente sono murati vivi dentro quel camper da non so 48 ore più o meno tra prove e tutto quanto grazie a tutti grazie a tutti